Ritratti spettacolari come questo della baronessa inglese di origine tedesca Stefania Von Coris, appena donato al museo di Villa Bardini, oppure questo di Papa Giovanni XXIII, commissionato dalla rivista Time per la copertina dell'ottobre 1962. E poi autoritratti, quadri a tema religioso, oggetti di design creati per la pubblicità, addirittura un dipinto astratto, finora sconosciuto perché di proprietà di un privato. È un Pietro Annigoni, per buona parte inedito quello raccontato dalla mostra curata da Emanuele Barletti in collaborazione con Arabella Cifani e Franco Monetti e allestita nella sede dell'ente Casa di Risparmio di Firenze, promotore dell'evento con la Fondazione Guelpa di Ivrea e con Rossella Segreto Annigoni, vedova del maestro. Siamo stati abbastanza fortunati perché siamo riusciti a trovare anche opere assolutamente sconosciute sia a livello editoriale sia a livello di esposizione, quindi ci sono delle opere che non sono mai state esposte. Questo quadro ad esempio intitolato Lo Scultore Folle è stato appeso per anni nel ristorante Giannino in San Lorenzo a Firenze e poi ritrovato in un salotto. L'esposizione è articolata in quattro sezioni, tra cui una che ricostruisce la storia della famiglia Annigoni attraverso i ritratti dei genitori dell'artista Ricciardo e Teresa e quelli della prima moglie Anna Maggini e della seconda Rossella Segreto. I ritratti di Pietro sono sempre dei ritratti dove lui indagava, scavava nel profondo, parlava continuamente con il soggetto fino a tirar fuori quello che c'era dentro. L'esposizione resterà aperta al pubblico fino al 6 gennaio.